Nessun servizio di mensa scolastica per gli alunni messinesi. Tra poco riprenderanno le attività didattiche nei plessi cittadini e tornano i problemi, quelli che continuano a non trovare soluzione. E così come è avvenuto già lo scorso anno, il servizio di rifezione scolastica non potrà essere garantito a causa dei noti problemi economici del Comune di Messina. Il Palazzo Zanca ha atteso per otto mesi l'approvazione del bilancio di previsione 2015, ore alle prese con il consuntivo 2015 ed il previsionale 2016. A rimetterci come avviene spesso in questi casi sono le categorie più deboli della popolazione. A saltare neanche a dirlo sono i servizi. Quello di rifezione scolastica poi non è considerato essenziale e carte alla mano i genitori che vorrebbero la mensa per i propri figli dovrebbero eventualmente contribuire economicamente coprendo il 36% della spesa prevista. Ieri il Dipartimento Comunale di Pubblica Istruzione ha incontrato i dirigenti scolastici. Sembra difficile trovare una soluzione. Lo scorso anno, dopo mesi di proteste e polemiche, il servizio venne poi avviato a febbraio inoltrato. Ora potrebbe addirittura non essere garantito nemmeno per pochi mesi e tra poco potrebbe riesplodere la problematica del riscaldamento. L'amministrazione a Corinti, alle prese anche con la sicurezza sismica di alcuni plessi, dovrebbe correre ai ripari prima che sia troppo tardi.